Cordiale incontro stamani, prima dell'udienza generale, tra Papa Francesco e una delegazione della comunità islamica italiana. Nel corso del colloquio avvenuto nello studio dell'Aula Paolo VI, è stato formulato al Papa l'invito ufficiale per visitare la grande moschea di Roma. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede.